Novena a Maria Santissima Rosa Mistica La novena si prega per dodici giorni, e il tredicesimo giorno è il giorno della grazia richiesta. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Immacolata, Madre di Grazia, Rosa Mistica a onore del Tuo Divin Figlio, ci prostriamo davanti a Te per implorare da Dio misericordia. Non per i nostri meriti, ma per la bontà del Tuo cuore materno. Ti chiediamo aiuti e grazie, sicuri che ci aiuterai. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le done, benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Gesù, Regina del Santo Rosario, e Madre della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, impettriamo per il mondo riarso, dalle discordie, il dono dell'unità e della pace, e tutte quelle grazie che possano convertire noi e i cuori di tanti figli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le done, e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Rosa Mistica, Regina degli Apostoli, fa fiorire attorno agli altari eucaristici numerose vocazioni religiose e sacerdotali, che con la santità della vita e lo zelo ardente per le anime possano estendere il regno del Tuo Gesù in tutto il mondo. Ricolma pure noi dei Tuoi favori celesti. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa vale di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi Tuoi misericordiosi. e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Rosa Mistica, Madre della Chiesa, prega per noi. Ora preghiamo la coroncina in riparazione delle bestemmie. Diamo omaggio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria, con i Santi, l'Odessia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. «Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono». «Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono». «Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono». «Vergine Immacolata, siate sempre benedetta». «Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen». «Diamo omaggio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria, con i Santi, l'Odessia». «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. «Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen». «Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono». 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 «Vergine Immacolata, siate sempre benedetta». «Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen». Diamo omaggio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria, con i Santi, l'Odessia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen». «Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono». 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 «Vergine Immacolata, siate sempre benedetta». «Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen». Diamo omaggio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria, con i Santi, l'Odessia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Vergine Immacolata, siate sempre benedico per la tua vita, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diamo omagio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria, con i Santi, l'Odessia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono. Vergine Immacolata, siate sempre benedeta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi, in cielo e così sia. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria Santissima Rosa Mistica prega per noi.